Un saluto da Dottor Palmas. Un saluto da Cristina. Come posso avere un preventivo per un amico o un parente? Mandaci la sua ortopanoranica. La fotografia praticamente della radiografia, ma mandaci soprattutto anche il suo cellulare e la sua mail. Così le possiamo girare il preventivo ed eventualmente occuparci del suo caso. Ricordati che sono sempre dati confidenziali. C'è la privacy sulle radiografie in Italia e sulle comunicazioni mediche. Ma soprattutto quando noi avremo la sua mail e il suo cellulare potremo fargli avere tutte le informazioni del nostro policlinico. Capita delle volte che arrivano dei parenti di pazienti nostri che non sanno nulla su di noi. Quindi arrivano qua al policlinico e cascano dalle nuvole. Questo perché? Perché non avevamo il nostro dipartimento che dà le informazioni alle persone a distanza. Non aveva contatti per poterle inviare. Quindi farci sempre avere la loro radiografia, ma poi darci anche i loro contatti personali di modo che nei mesi, prima che prendano la decisione di venire qua, leggano il più possibile, vedano più video possibile, di modo che siano informati di tutto. Quindi se hai da inviare qualche contatto, puoi semplicemente cliccare sul bottone qui sotto, avrai accesso per esempio al forum dove si possono caricare i suoi dati. Io ti faccio un saluto da parte mia e da parte di Cristina.